Siamo più o meno immersi nel vuoto? Siamo più o meno immersi nel vuoto? Siamo molto intenta ad andare in quello strano albero, però mi devo procurare della legna, perciò ora mi metto a prendere la legna. Comunque, se avete visto che ho creato una playlist con i miei video, andatevi a guardare perché lì ho messo tutti i miei video registrati sul canale e ora metterò anche questo. Ok ragazzi, ora pianteremo un altro albero con la bombial, con la farina d'ossa. Lo metto un po' più al centro perché sennò poi le foglie cascano e a me mi servono per piantare altri alberi. Ok, penso che qui vada bene. Ora dobbiamo fare così. No, non funziona alla vecchia maniera. Allora dobbiamo farlo così. Abbiamo otto di farina d'ossa e ora non resta che prendere la legna. Ragazzi, piccolo problem. Per sbaglio mi sono buttata di sotto e ho perso tutto. Evviva. Fantastico. Non importa, io non mi arrendo, la scala ce la faremo con la terra. Non mi interessa. Tattica da veri pro ragazzi, tattica da veri pro. Guardate, ora io faccio così per vedere se c'è il vuoto. In ogni caso c'è il vuoto. Perciò ragazzi. Ora ci lanceremo da questa parte e raccoglieremo la terra. E ci metteremo shiftati. Però forse sono un po' scema. Perché non ho... Non ho dato questo problema. Poi ripiazzo anche il blocco, ma cosa sta succedendo? No. Vabbè. Ora prenderò questa... Come si dice ragazzi, mi scordo anche i nomi. Terra, ecco terra. La prenderò così posso fare il sentiero per portarmi nel lucky block. Speriamo che non ci vorrà molto, molto. Allora. Comunque ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se volete altri video del genere, tipo skyblock con queste isolette che devi tragittare, tipo per arrivare in dei punti sconosciuti. Vabbè, robe del genere ragazzi, avete capito, no? E facciamo che appena arriviamo a 10 like, farò... Ho un'avventura dentro una bottiglia. Ci state? Però solo se arriviamo a 10 like. Perciò ragazzi, ho 46 di terra. Ora ci ho shiftati a fare questo terreno. Però non c'ho fatto. Aspettate che ora metto il meteo. Allora. Come si mette? Ehm... Ehm... Vabbè, chi se ne frega del meteo. Allora. Forse si può fare solo in creativa. Ragazzi, iscrivetevi. Ehm... Ehm... Dai, ragazzi, quanto mancava poco, c'era un piccone. Guardate ragazzi, la mia isola è bellissima, vero? Ah, oh mio Dio. Vediamo cosa c'è qua. Secchio di lava, ghiaccio, mela. Vabbè, vabbè, il ghiaccio lo mettiamo comunque. Aspettate che cammino veloce. Ecco qua. Ecco qua. Il ghiaccio. Speriamo che non si sciolga. Andiamo qui. E il secchio di lava non so cosa... Abbiamo anche fatto cadere un blocco. Oh, questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. Allora. 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 Non cadere, non cadere, non cadere. Qui sotto non c'è più niente, però a pensarci bene. La cassa la possiamo mettere? Speriamo che non cada. Non è caduta. Non cadere, Gloria, non cadere, non cadere. Ok, perfetto. Non qui. Vabbè, ragazzi. Ragazzi, scusate, mi ha chiamato una mia amica nel frattempo. Nel momento peggiore comunque. Prendi la cassa. Ce l'ho fatta. Oh, finalmente, ragazzi. Allora. Allora. E ora... Comunque la mia amica mi stava chiedendo se voleva giocare a Fortnite con me. Però le ho detto che stavo facendo un video. Magari dopo ci giocherò con lei. Comunque, ragazzi. Comunque, ragazzi. Ehm... What a problem? Forse sì. non cadere. Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Perché? Cioè, lo dico. No Ma dai Non ci posso credere Infatti si può fare parkour ragazzi E che a me i blocchi servono L'ho preso L'ho preso Non cadere Aiuto No dai Ma ora che c'è Raga Non ci posso credere Maledetta cesto Vabbè ragazzi Magari Al posto Magari nel prossimo episodio non faremo sopravvivi in una bottiglia Magari faremo il continuo di skyblock Non so Comunque ragazzi Per oggi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Ehm Magari dopo faremo Farò un altro video Non so di cosa Però vedrò Vabbè ragazzi Ciao Ciao Ciao